I nuovi tesori del Parco archeologico di Laos. Santa Maria del Cedro apre le porte alla conoscenza di queste nuove aree con l'inaugurazione a cui hanno partecipato i delegati dell'Università di Salerno, della Sorbona e il Saint Jean Bernard di Napoli di Parigi e la sovrintendenza ai beni archeologici della regione Calabria. Un debutto che si inserisce inoltre nella settimana della cultura, ma c'è ancora tanto da scoprire come ha sottolineato il sindaco del centro altotirrenico Giuseppe Olicino. La città di Laos, mi dicono, sia i francesi che i nostri italiani, non ne si esaurisce qui, c'è tutta una vallata fino al fiume Laos da mettere a nudo, da studiare, per far sì che si trova veramente la città di Laos riferita al periodo greco. L'obiettivo dunque è quello di riuscire a portare alla luce l'antica città di Laos negli anni del suo splendore, quelli del periodo greco, senza trascurare però le varie stratificazioni sociali che si sono susseguite nei secoli. Il territorio, anche se non in maniera così evidente come il parco, offre una serie di altre risorse altrettanto importanti per la conoscenza delle vicende storiche che hanno interessato questo importante contesto territoriale. che vanno dall'antichità più remota senza soluzioni di continuità fino all'oggi. Ma il parco archeologico della Laos non è soltanto questo. Molti sono infatti i progetti di recupero e gli scavi che verranno affrontati nei prossimi mesi, soprattutto grazie al finanziamento regionale di fondi europei che ha ottenuto il comune di Santa Maria del Cedro. Portare alla luce altre parti del tessuto urbano, altre case, poi se riusciamo anche qualche tratto delle mura urbiche della città perché era una città raccinta da mura e vorremmo renderle visibili. Sperando poi a un certo punto di riuscire anche a individuare il nucleo più antico.